Buongiorno Maestro O semplicemente David Lynch It's May 1 2022 And it's Sunday It enables 69 and 8 Fahrenheit around 21 Celsius And as I regard the fever Day 5 Of the fever And 37 And 6 and 5 Degrees as I regard the fever And I have in this moment I thought it would get up tomorrow Yesterday, as I said But in some way, it would continue to get up I hope at this point, that tomorrow That it would get up But I don't believe In any case, a fever so long Non mi è mai capitata Penso da veramente tantissimi anni Almeno 5-6 anni Almeno 5-6 anni, se non di più che io ricordi Io cado raramente malato Non so perché Ce l'ho detto qualche giorno fa Non so perché Chi mi ha trasmesso questa febbre Non lo so proprio Comunque me la devo tenere È brutto perché Fosse capitata diciamo a gennaio O dicembre Insomma a febbraio I mesi più freddi Non l'ho capito Ma in questo periodo Davvero brutto Perché c'è comunque anche la sensazione Che fa caldo E sento caldo Quindi Anche è brutto Ma che devo fare E poi praticamente Ci scende E sale Scende e sale In genere La sera Sale sempre 38-38 e mezzo Cioè hanno capito questa cosa E la mattina Scende di nuovo Ma In questo momento è 37-7 Praticamente Ma sento anche peggio In realtà Comunque Vedremo Io spero si tolga quanta orina Perché comunque In questo periodo qua Come ho detto Davvero brutta Maggio Che inizia il caldo diciamo Ma non per il caldo Ma proprio per un fatto generale Che sarebbe stato meglio prenderla a gennaio A febbraio In realtà a gennaio Alla ibi Ma meno giorni Ma non così È un altro tipo di cosa Legata al covid Comunque Sempre meglio prenderla I mesi invernali La febbre I mesi in cui fa più frido Di questi periodi Che È una sensazione È troppo brutta Perché appunto Perché questi motivi qua Non in modo Uh Very still right now Uh And As riguarda le videotuts Perché Se forse Se siete interessati I do always The video Separate from this Quindi Occhio nel caso Vi interessi Invece 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 Those Beautiful Those Beautiful Beautiful Blue sky And golden sunshine And I think all along the way Ovviamente è qui minore Rispetto a voi Che le fa mattina Tra più presto Quindi qui già un po' più tardi Comunque è bene così Stiamo di continuare anche domani Così Per cui Said this So from the mythical window With the orange Red Blue green water curtain And it's Green Roller Shooter Via and me On the top Not visible Infactoring the shot And finally From my mythical keyboard Amatic X 640 IPG IPG 625 E Great day In world people Follow the channel Riporsi Un saluto Davvero a tutti Indorso I hope you Have a great breakfast Io la farò tra poco Il mio stomaco brontola Nonostante la febbre Ma ho fame Purtroppo Ho anche molta fame La farò Si Poi Mi Mi sono fatto Finalmente Un shampoo Anche la doccia Purtroppo Non ce la facevo più Lo so che ho la febbre Ma Non ce la facevo più Dove ho bisogno Poi Altra volta Diciamo Me li farò di nuovo Magari tra 4 giorni Sperando Che si levi definitivamente Questa febbre Già domani Vedremo Si Nel caso Ci vediamo nel video tos Se lo faccio O domani Purtroppo